... Mercoledì 21 aprile, buongiorno, ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV all'appuntamento del mattino con le notizie, con la rassegna stampa, con i giornali, i giornali che tra poco sfoglieremo insieme a voi con il nostro touchscreen nel quale abbiamo scaricato con i nostri abbonamenti, abbiamo scaricato le pagine dei giornali il Corriere Adriatico, il resto del Carlino, le notizie a nostro giudizio più interessanti di oggi prima però abbiamo un appuntamento che è quello con l'almanacco del giorno, ovvero il Santo, il Santo e il Sole il Sole che sorge alle 6 e un quarto, è già sorto alle 6 e un quarto e tramonterà questa sera preciso alle 8 anche se non avremo modo di vederlo fisicamente perché il Sole sarà coperto da tante nuvole intanto Sant'Anselmo e facciamo gli auguri anche a tutti coloro che portano questo nome, buono nomastico a tutti gli Anselmo che sono collegati con noi in televisione sul canale 17 dicevo il Sole si nasconderà dietro le nuvole che oggi in modo persistente continueranno a scaricare pioggia su tutta la nostra regione, avremo ancora temperature in diminuzione in questo momento mentre siamo in onda, in diretta alle 7.46 per esempio qui a Fano ha temperature intorno ai 12-13 gradi per la giornata di domani c'è un miglioramento ma soltanto nel corso del pomeriggio quando i rovesci che persisteranno soprattutto nel meridione della nostra regione piano piano lasceranno lo spazio al bel tempo bel tempo che avremo nella giornata soltanto di giovedì, giovedì 23 aprile ma le temperature minime saranno ancora in diminuzione quindi farà ancora un po' freddo la notte e al mattino poi invece durante il giorno le temperature aumenteranno per quanto riguarda i prossimi giorni dopo da venerdì, da giovedì insomma in poi torna l'espansione dell'alta pressione che determinerà secondo il bollettino della protezione civile delle Marche qui facciamo riferimento condizioni stabili e soleggiate per l'intero fine settimana continuano a scendere per fortuna grazie al cielo a scendere il numero dei contagi, il numero dei morti lentamente si sta tornando alla normalità si sta pensando a questo benedetto 4 maggio quando l'Italia si spera proverà in qualche modo a ripartire ma sul tappeto ancora ci sono tanti, tantissimi, troppi problemi legati anche alla situazione di tutti i giorni i problemi che riguardano noi, che riguardano le persone andiamo allora a vedere, cominciamo però questa mattina dalla pagina nazionale del resto del Carlino e il titolo è questo, con una foto che ci mette spero un po' di buon umore e ci fa salire un po' come dire la speranza bandiera blu, questo è il titolo buone notizie in vista dell'estate, il virus non resiste in mare perché in questo momento se ne sta sentendo davvero di ogni tipo il virus dai rubinetti di casa, il virus in mare, insomma il virus ovunque comunque sono queste le buone notizie in vista dell'estate intervista a Rezza, potremmo fare il bagno e stare anche in spiaggia poi bisognerà capire come e quando in spiaggia intanto la pagina di peso del resto del Carlino contagi zero ma c'è la guerra sulle previsioni l'osservatorio della salute per quanto riguarda la nostra regione prevede il contagio a livello zero a fine di giugno però la regione dice no e tira fuori un'altra statistica e secondo la regione lo zero contagi potrebbe arrivare già alla fine di maggio mentre a centro pagina il racconto a pagina 4 e 5 del giornale è il racconto di questi due mesi di passione dal paziente 1 al disastro, le tappe di questa tragedia e poi l'ex primario, scusate, che torna in sala operatoria non potevo dire di no e poi l'economia con i prestiti garantiti dallo Stato le imprese si muovono e il bollettino che prevede altre 12 vittime nelle Marche che ha visto altre, non prevede, che ha visto ieri altre 12 vittime nelle Marche 7 sono del Pesarese mentre c'è un'intervista anche nel quotidiano nazionale a Ricci sindaco di Pesaro tre punti fondamentali per riorganizzare la partenza e lo vedremo tra poco nelle pagine interne intanto c'è questo scontro, dicevamo, sulla data zero contagi Marche, Maglia Nera, Macché l'Osservatorio sulla Salute dice siete come la Lombardia l'Osservatorio sulla Salute è quello nazionale e che prevede tra l'altro la fine dell'emergenza solo dal 27 giugno mentre la Regione ribalta tutto e dice no, queste stime che dà l'Osservatorio sulla Salute sono sbagliate secondo noi ne saremmo fuori almeno un mese prima cioè alla fine di maggio quindi secondo l'Osservatorio della Salute Nazionale nelle Marche avremo zero contagi a fine giugno insieme alla Lombardia mentre secondo la Regione a fine maggio quindi un mese praticamente prima e su questo c'è, ieri c'è stata una vera e propria battaglia poi Ceriscioli con la Regione è intervenuta soltanto a fine serata quindi tardissimo pomeriggio ecco perché nel telegiornale di ieri sera vi abbiamo dato conto soltanto dei dati della previsione dell'Osservatorio Nazionale non di quello invece della Regione che anticipava di un mese la data dei zero contagi questo è il motivo per cui ieri sera nel telegiornale abbiamo dato conto soltanto di questo dato oggi però i giornali le cui redazioni chiudono un po' più tardi rispetto a noi hanno avuto modo di ospitare anche questa dichiarazione della Regione di Ceriscioli quindi giustamente c'è spazio per anche il controaltare negli ultimi cinque giorni è positivo solo il 6% dei campioni esaminati clamoroso il vantaggio attribuito al Piemonte dove il virus in realtà corre di più contagi zero anche il resto del Carlino ne parla contagi zero a fine giugno ma la Regione dice no sarà a maggio il secondo il dossier dell'Osservatorio Nazionale della Salute saremo gli ultimi insieme alla Lombardia il governatore Ceriscioli non ci sta il calcolo nazionale non è corretto e va anticipato di un mese non si considera con botta risposta non si considera l'aumento dei tamponi e la quota zero che in certe province è già stata invece raggiunta Ceriscioli non ha dubbi tutte le carte sono in regola per ripartire il 4 di maggio Palazzo Raffaello contesta l'analisi dello staff del professor Ricciardi non tiene conto dell'aumento dei tamponi siamo sulla strada giusta intanto il bollettino diminuiscono i ricoverati aumentano le dimissioni crescita dei contagi sotto l'1% altre 12 vittime ora sono 834 in tutta la Regione Marche intanto Benedetta Iacomucci oggi pubblica sul giornale due pagine molto interessanti nelle quali viene ripercorso tutti vengono ripercorsi questi due mesi dal 25 febbraio quando è stato diagnosticato è stato trovato il paziente 1 e l'8 marzo invece ha iniziato il lockdown la cronistoria di una pandemia che ha stravolto davvero le nostre vite è molto interessante soprattutto perché mette in ordine in queste che sono giornate quasi tutte uguali ormai si sono uniformate come dicevamo qualche settimana fa non ci sono più i giorni non ci sono più i numeri c'è soltanto il mattino il pomeriggio e la sera in questa quarantena che comincia a essere davvero pesante per tanti ma comunque qui si viene messo ordine praticamente su tutto quello che mi dispiace non aver potuto mettere la seconda pagina la ritroveremo più avanti in ordine perché poi è arrivata la diretta quindi il momento della diretta ma comunque poi rivedremo anche la seconda pagina intanto questa è l'intervista invece all'imprenditore Francesco Merloni sul Corriere Adriatico di questa mattina che non fa morale sulle vittime del virus eravamo dice Merloni troppo arretrati sulle tecnologie adesso ci stiamo attrezzando in linea con il collega Loccioni dice le aziende del nord vengano qui nelle marche c'è posto guardiamo al presente molto poco al futuro la storia non siamo noi dice Merloni nato a Fabriano nel 1925 laureato in ingegneria industriale all'università di Pisa e figlio di Aristide Merloni fondatore della società Ariston ora sul tuffo in mare su queste notizie che ieri hanno iniziato a circolare vediamo di mettervi insieme queste due pagine eccole qua allora hanno iniziato a circolare dicevo su questa storia del virus che gira anche se resisterebbe anche nell'acqua nel mare addirittura dal rubinetto di case insomma il Corriere Adriatico questa mattina fa in queste due pagine che vi stiamo mostrando un po' il punto fare il bagno si può fare fate il bagno tranquilli occhio però ai vicini di lettino quindi la regola per non essere per non contagiarsi resta valida ed è sempre la stessa quello del distanziamento sociale bisogna stare almeno un metro un metro e mezzo ma anche due o tre insomma va bene lontani l'uno dall'altro perché il contagio avviene attraverso le goccioline di saliva che poi quando uno stannutisce parla eccetera si sta vicini meno di un metro si sta vicini meno di un metro anche per più tempo non basta starci o sfiorarci o dirsi ciao insomma bisogna avere un contatto all'inizio di questa mi ricordo all'inizio di questa ricorderete tutti di questa pandemia si era dato anche un tempo minimo minimo un quarto d'ora ora non ne parla più nessuno non so se questa regola è variata comunque ecco quello che conta è stare distanti quindi occhio vicini di Lettino l'infettivologo Barchiesi dice nelle vie aeree il fattore decisivo e l'alta concentrazione qui è l'esatto opposto trasmissione oro fecale oppure con l'urina no non sono per il momento dimostrate non ci sono dimostrazioni che si possa trasmettere anche con l'urina o con le feci insomma tutto questo no non mi risulta la sopravvivenza del virus in acqua intanto sull'altra pagina la vedete cloro e 8000 controlli all'anno il virus non esce dal rubinetto viva servizi e rispetto delle linee guida dell'istituto superiore della sanità l'azienda che gestisce il ciclo completo delle acque nella provincia di Ancone è stata la referente regionale di Roma per il piano di formazione sulla sicurezza e il manager De Angelis dice i trattamenti garantiscono la disinfezione prima e dopo l'arrivo nelle case dunque non non ci sono problemi neanche dal rubinetto di case intanto l'istituto qui siamo sul carlino di sanità dice il mare è sicuro il covid-19 non nuota nell'acqua l'epidemiologo Rezza dice sia la stagione turistica bene gli stabilimenti a numero chiuso anche la sabbia è innocua dunque chi va solitamente in spiaggia dove c'è la sabbia anche sulla sabbia il virus non resiste non c'è anche perché la sabbia quando è agosto luglio insomma anche giugno scotta parecchio insomma dovrebbe essere un virus davvero incredibile intanto una curiosità l'hotel del film a vacanze di Natale fa causa alla Cina e non saranno penso non sarà l'unico intanto sulla pagina primo piano del quotidiano nazionale del resto del Carlino quindi a pagina insomma nelle pagine interne c'è un'intervista che Roberto Fiaccarini ha realizzato con il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ricorderete Matteo Ricci all'inizio fece una campagna contro coloro che la stavano prendendo forse sul serio e quindi e quindi stavano cominciando già a mettere in atto misure anticontagio che all'inizio di questa pandemia quando invece in molti l'avevano presa un po' la leggera e forse poco più che un'influenza tanto per sintetizzare lui era uscito dicendo basta panico e insisteva nel dire e quindi lui risponde a queste domande e dice è vero a fine febbraio ero contrario a fermare tutto ma allora la mia opinione la mia era l'opinione maggioritaria però verrebbe da dire e qui c'è la risposta che dà al giornalista dice a fine febbraio mentre la regione chiudeva le scuole lei proponeva l'iniziativa con tanto di adesivi basta panico Pesaro riparte per rilanciare le iniziative era il primo marzo e il virus aveva dato già i primi segnali di presenza in provincia si è pentito la risposta di Ricci è stata a fine febbraio tutti pensavano che si potesse ripartire subito dopo i primi tre giorni di panico tutti i giornali e le tv davano la sensazione che l'impatto in Italia sarebbe stato molto minore io ho fatto la battaglia contro il panico e la faccio anche oggi ho cambiato idea dice ancora rispondendo ad un'altra domanda quando è cambiata l'impostazione generale e alla fine bisognerà dare qualche laurea anche sul senno di poi tengo aperti due hotel su 10 su 6 invece e applico le tariffe low cost l'imprenditore albergatore Nani Marcucci Pinoli che sta ospitando il personale sanitario in appoggio da Urbino nuovo commissariato ci siamo idoneo il progetto di un privato l'annuncio del sindaco alle liste che replicano sede unica con la polizia stradale a Fano l'emergenza sanitaria cala ma quella economica cresce il sindaco Seri sta ragionando sugli aiuti il turismo è il settore più in sofferenza e ancora SOS prezzi gonfiati controlli per stanare chi se ne approfitta dopo i gel e le mascherine iniziali ora le segnalazioni riguardano anche altri prodotti i guanti sono passati da 5 a 12 euro e per 4 litri di alcol se ne sborsano addirittura 16 immuni l'app anticontagio studia il link con le regioni sarà decisivo il collegamento fra tracciabilità e servizi di prevenzione sul territorio la mappatura degli spostamenti confronto in videoconferenza con il ministro Boccia il professor Frontoni dice ok se la scarica almeno il 60% degli utenti un gruppo di ricerca della Politecnica spinge sulla diffusione di questa app punizioni per i dipendenti che si lamentano sui social invece l'area vasta ricorda che ai lavoratori l'articolo 3 del codice di comportamento aziendale insorgono i sindacati generali la cimo la politica con Baldelli una lettera offensiva operazione Vertolaso tutti i costi sul resto del calino Polo Covid Civitanova Marco il progetto saranno 84 i posti letto tra terapia intensiva e subintensiva le donazioni che sono state pubblicate sul sito inter del CISOM sono arrivate a 7.736.000 euro intanto ricorderete qui siamo sulla pagina di Iesi del Corriere Adriatico ricorderete una delle tre ragazze marchigiane tra cui una di Iesi di 27 anni che erano state assunte a Disney World in Florida negli Stati Uniti a Disney World dove avevano un contratto per fare questa esperienza eccetera eccetera ebbene purtroppo una di loro è costretta questa Iesina che si chiama Chiara Pacetti è costretta a rimanere negli Stati Uniti a fare la sua quarantena negli Stati Uniti alcuni suoi giovani colleghi sono riusciti però a rientrare ieri lei però dice comunicare è difficile siamo nel pieno del caos negli Stati Uniti e dunque è costretta a rimanere a rimanere lì la rapidità era la priorità torniamo sul Carlino questa volta la pagina di Fano la rapidità era la priorità per i buoni spesa l'assessore Etienne Lucarelli spiega perché il comune di Fano abbia scelto di affidarsi alla Eden Red abbiamo agito con maggiore tempestività i gestori dei negozi elementano però l'eccessiva complessità delle operazioni di riscossione dei soldi a bell'occhi non si rimane con le mani in mano poi c'è chi pulisce tutti tutto alcuni cittadini nei rari momenti di uscita puliscono i campi dalle erbacce e sempre da Fano questa volta e ancora dal resto del Carlino la prima pagina è per questo albergatore imprenditore 62enne Gabriele Orazzi che dice se aspettiamo il governo moriamo tutti da 40 anni è presente nelle attività alberghiera porta avanti due strutture tra mille difficoltà quotidiane poi la denuncia per quanto riguarda i parrucchieri abusivi confartigianato attiva il numero per segnalarli e allora ecco qua il numero da segnalare nel caso in cui vediate persone che vanno a fare i capelli a casa di altre magari adesso scatterà la guerra col vicino di casa ma comunque il numero telefonico dedicato 071 22 931 per fare cosa per denunciare i parrucchieri abusivi ed è un numero che è stato attivato dalla confartigianato il fenomeno è dilagante di cui si è parlato di recente su queste pagine ha indotto Luca Casagrande responsabile del settore benessere a lanciare un appello al sindaco per sollecitare maggiori controlli e verificare situazioni di illegalità e poi la questione degli orti per anziani ora anche qui abbiamo tante telefonate tutti i giorni come ieri l'abbiamo avuto per il numero delle mascherine parleremo anche di questo c'è il via libera la nuova ordinanza del sindaco riapre la possibilità di andare a fare le coltivazioni a zappare sono ben 339 allora ieri c'è è stata firmata questa ordinanza dal sindaco massimo seri 339 titolari degli orti sociali di chiaruccia dove ci sono 80 lotti poi a tre ponti dove ce ne sono 124 a belgatto 135 potranno iniziare le coltivazioni di pomodori zucchine e insalate ai presidenti dei comitati di gestione scrive Anna Marchetti questa mattina sul resto del carlino ai presidenti dei comitati di gestione di ciascuna delle tre aree ortive è stato affidato il compito di verificare che questi 139 anziani rispettino i vincoli imposti da questa ordinanza del sindaco e assicurino l'igiene l'igienizzazione dei bagni poi il comune ha stabilito anche i giorni e gli orari di accesso agli orti è vietato ovviamente ogni aggregazione ogni momento aggregativo il calendario è stato strutturato a garanzia del distanziamento sociale cioè nello stesso giorno lavorerà un anziano ogni 6-7 orti proprio per non tenerli vicini purtroppo però qualcuno ieri ha fatto il furbo e non ha rispettato il calendario dice il presidente degli orti Chiaruccia Marsino Moricoli e speriamo nel buon senso di tutti le mascherine però non sono obbligatorie ma consigliate visto che nell'attuale emergenza gli anziani sono considerati soggetti deboli abbiamo insomma qui è un po' si è parlato un po' si è cercato di fare un po' il punto nel senso anche di dare qualche consiglio troverete tutto insomma sul giornale di questa di questa mattina ecco l'altra pagina che vi dicevo la prima l'abbiamo vista sempre a firma dove il resto del Carlino fa fa praticamente la cronistoria il diario di quello che è successo in questi due mesi cosiddetti di passione e questa è la seconda pagina l'inizio il 25 febbraio ce lo ricordiamo benissimo il 25 febbraio quando in provincia di Pesaro viene ufficializzato il primo caso di covid il paziente 1 è un ingegnere di Vallefoglia di ritorno dall'area di Piacenza segue di soli 4 giorni il primo caso registrato in Italia quello di Mattia lo ricordate il ragazzetto 18 anni mi pare che non era mai stato in Cina però lo stesso giorno Ceriscioli annuncia la chiusura delle scuole lo stesso giorno in cui è stato stoppato in diretta da Conte in persona mamma mia sembrano due secoli fa gli ospedali in tilt poi l'altra data importante quindi due giorni dopo il 27 febbraio arrivano al pronto soccorso al pronto soccorso di Fano due coniugi due anziani coniugi fanesi moriranno due settimane dopo a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro l'inizio di una rapida escalation che porta sul sistema sanitario uno stress senza precedenti il 12 marzo il San Salvatore diventa ospedale covid si creano 4 terapie intensive con 40 posti si montano 3 tende davanti al pronto soccorso e poi quando dice Umberto Gnudi primario del pronto soccorso quando a metà gennaio ci preparavamo alla normale influenza avevamo notato nelle Marche e nella Lombardia molti più casi che nel resto d'Italia erano forse già covid prima delle final eight chiaramente le final eight così come probabilmente anche il carnevale di Fano sono stati due due iniziative due eventi che con seno del poi andavano assolutamente evitati le mascherine ecco la fotografia della fila che ieri mattina c'è stata il comma di Rusciano per andare a ritirare queste mascherine gratis notevoli le distanze tra i cittadini tante ovviamente le precauzioni però ecco c'è da registrare la protesta di tante persone che ieri hanno provato a chiamare al numero 0721 80 81 42 per chiedere informazioni per produttare queste queste mascherine ieri ne sono state consegnate 1146 933 al Codma e 213 invece direttamente a casa il telefono ha squillato continuamente detto Saverio Livi che è il responsabile del CB Club Mattei della protezione civile i volontari hanno chiesto a tutti se potevano ritirare le mascherine personalmente o se c'era qualcuno che potesse farlo per loro altrimenti sono stati i volontari stessi a consegnarle a domicilio comunque fanno sapere protezione civile e amministrazione comunale non c'è alcuna fretta perché le mascherine ci sono per tutti ne abbiamo dicono 30.000 e ne consegniamo 5 a testa 3 chirurgiche certificate e 2 a doppio telo di cotone di quelle che abbiamo ormai siamo stati abituati a vedere poi ieri nel telegiornale Occhio la notizia delle 20 e 30 abbiamo intervistato anche Cristian Fanesi proprio lì di fronte all'ingresso della protezione civile al CODMA Fanesi che dice agli anziani che trovano il numero di telefono occupato chiediamo di avere pazienza e di riprovare e di pazienza ne hanno avute comunque tanta ieri poi qualcuno invece si è spazientito e ha chiamato noi giustamente nel senso che quando c'è qualcosa da evidenziare qualche protesta qualche lamentela Fano TV diventa un po' lo sfogatore quindi va benissimo noi cerchiamo di rispondere anche noi a tutti ma non sempre è fattibile a volte e chiediamo scusa naturalmente a tutti coloro che magari ieri hanno insistito nelle telefonate anche al nostro numero ai nostri numeri non sempre riusciamo a rispondere perché abbiamo anche altro da fare però laddove è possibile cerchiamo di dare una risposta a tutti comunque vale per tutti la regola che è meglio scrivere anche su Whatsapp perché poi avremo tempo molto più tempo per rispondere nei momenti nei momenti liberi d'accordo quindi meglio Whatsapp e scrivere su Whatsapp anche un messaggio vocale come se foste al telefono allora la denuncia invece nostra nonna non era positiva al virus ma quando è morta ci hanno impedito di vederla siamo sempre sulla cronaca di Fano e comincia così con questo virgolettato non è giusto che non ci sia stato concesso di vedere per l'ultima volta nonnina si lamenta una famiglia di Fano che nei giorni scorsi ha subito un lutto al tempo del coronavirus al naturale strazio per la perdita prematura o no un ulteriore dolore viene inflitto dalle normative anticontagio a chi si trova a piangere il trapasso di un parente e dice non era ricoverato in una casa di riposo della città e siccome non ha mai manifestato sintomi da covid-19 non le è mai stato fatto il tampone noi siamo sicuri che non sia morta di coronavirus ma per le altre patologie di cui purtroppo soffriva nonostante questo però la regola del coronavirus è balsa anche per per loro c'è una pagina che noi adesso andiamo a prendere però dalle colonne del carlino sempre nazionali perché vale anche per noi vale anche per le marche vale anche per la provincia di Pesorurbino i vescovi adesso dicono basta dobbiamo tornare alle messe con i fedeli dure parole della conferenza episcopale italiana dobbiamo riprendere la vita comunitaria la paura è che i fedeli si abituino alle domeniche senza riti da Radio Maria a tanti fedeli e preti cresce lo sconcerto persino Monsignor Dercole il vescovo della diocesi di Ascoli dice lo Stato la smetta di intromettersi ora questo è un po' forte ma andiamo a leggere un po' meglio per non mettere in difficoltà o in cattiva luce il vescovo di il nostro Don Dercole che a noi invece piace tanto dice Don Giovanni Dercole fa molto che la gente insomma si lamenta fa molta pressione per poter riprendere la vita normale delle parrocchie noi ci troviamo dice noi come vescovi come preti tra due fuochi da un lato la gente preme su di noi e dall'altro ancora non arrivano le direttive del governo ricevo continuamente lettere messaggi di fedeli anche un po' arrabbiati come se fossimo noi vescovi a vietare molti non capiscono neppure che è il governo che prende le decisioni anche se qui dovremmo aprire un'ampia riflessione perché ci stanno mettendo le mani perché stanno scusa si stanno mettendo le mani negli affari interni della Chiesa ecco questo è quello che ha detto si stanno mettendo le mani negli affari interni della Chiesa questa è così come la direbbe un vescovo come la sintetizza un giornale invece è lo Stato la smette di intromettersi che è certamente un po' più forte ma il senso è quello chiaramente non cambia quindi non è che il giornale ha sbagliato ma comunque ha fatto una sintesi che è certamente più forte e che comunque serve poi a far leggere l'articolo quindi ci sta nella logica delle cose però ora i più attenti di voi avranno notato perché poi nelle immagini e con le immagini spesso in una società come la nostra basta solo un'immagine per dire molte più cose che anche con le parole per esempio stamattina nella messa del Papa a Santa Marta qualcuno avrà notato un'inquadratura diversa rispetto agli altri giorni in altri giorni le inquadrature erano sul Papa sull'altare il Leggio l'Ambone eccetera eccetera oggi invece per la prima volta c'è una immagine un'inquadratura con la prospettiva dei fedeli dei banchi che non sono più vuoti ma con con alcune persone con alcuni fedeli presenti alla messa del Papa quindi c'è questa inquadratura che va in questa direzione va in questa direzione cioè la Chiesa sta chiedendo e lo sta chiedendo con forza al Governo in queste ore in cui il Governo sta scrivendo evidentemente questo nuovo decreto per la fase 2 sta chiedendo proprio questo e lo fa anche con le immagini giustamente in maniera intelligente in una messa che è una messa chiaramente molto seguita quella del Papa del mattino quindi cominciare a far riabituare a rivedere la gente che partecipa alla messa e quello l'abbiamo visto poco fa prima della nostra rassegna stampa bene detto questo andiamo avanti siamo sempre nella rassegna stampa del giorno con questa pagina del resto del canino sempre di Pesaro lo sport in lutto per Leonardo era anima del Milan Club ricoverato per un'ernia poi gli era salita la febbre aveva 86 anni era nato nel 1984 e poi c'è questa lettera che fa stringere il cuore pubblicata sul giornale non la leggo chiaramente non la leggiamo tutta vi invito ad acquistare il giornale in edicola però è la storia di una donna che sta soffrendo per la perdita del marito la perdita di suo marito che è avvenuta 15 giorni fa lei dice racconta non ho potuto stargli vicina non posso andare al suo funerale per favore adesso però non chiedetemi anche di vedere le sue cose per giorni abbandonate per strada che cosa significa Marche Multiservizi nei giorni scorsi l'ha contattata perché le ha detto di riporre gli indumenti di suo marito in un sacchetto apposito per ragioni di sicurezza sarebbe stato tutto bruciato io ho fatto quello che mi veniva chiesto dunque gli operatori hanno distribuito gli appositi sacchetti neri al domicilio della signora me li hanno lanciati da lontano insomma un gesto un po' esagerato ho preso tutte le cose indossate da mio marito durante la malattia ho riempito questi sacchetti e li ho lasciati sul ciglio della strada come mi era stato chiesto ebbene ancora oggi i sacchi sono lì e quindi potete immaginare cosa significa per questa donna affacciarsi alla finestra uscire un attimo di casa e vedere i sacchetti con dentro i vestiti del marito morto ancora lì da giorni e nessuno nonostante le telefonate quotidiane della signora nessuno è passato a ritirarli la pagina di Senigallia consegnano pacchi e bisognosi stranieri nel mirino di un ater il presidente dell'associazione tra comunitari malì dice malì non ci aspettavamo tante frasi razziste due volontari dell'associazione che dona alimenti sono stati insultati questi migranti attivi per raccogliere alimenti da consegnare bisognosi a casa loro chi li vuole si riprende a proprie spese non servite a niente sono alcuni dei messaggi deliranti che queste persone evidentemente la quarantena non gli sta facendo bene oppure ha esasperato un po' questi animi insomma sono alcune delle frasi che hanno pubblicato su internet andiamo ancora avanti questa è la pagina di Urbino invece guarita ma sequestrata in assenza di un tampone l'assessore Giuseppina Maffei dal 12 marzo sono fuori dal virus devo tornare al lavoro in banca ma ancora mi devono dare una risposta è il problema che purtroppo stanno stanno vivendo anche altre persone che di fatto sono si sentono un po' sequestrati perché devono fare questo secondo tampone o comunque devono fare il doppio tampone per essere giudicati guaribili dichiarati guaribili che invece però questo secondo tampone o questi tamponi tardano ad arrivare addio a Salvatore Cannas l'imprenditore Sardo aveva 87 anni il cordoglio del sindaco di Urbino Maurizio Gambini poi morto l'imprenditore Luigi Valentini l'Università di Urbino lo ricorda nel 2011 gli consegnò la laurea ad honorem in economia e questa era l'ultima notizia della nostra rassegna stampa occhio ai giornali che torna domani mattina come sempre dopo la Santa Messa in diretta dalla Cappella di Santa Marta con il Papa Francesco noi invece ci rivediamo questa sera alle 20.30 con occhio alla notizia il telegiornale se avete notizie informazioni se avete messaggi anche come dicevo in modalità audio come se fosse una telefonata la registrate e poi ce la mandate noi cercheremo di rispondervi nel minor tempo possibile intanto grazie per averci seguito buona giornata a tutti e arrivederci a tutti